Ancora pioggia e grandine nell'Aretino, le precipitazioni hanno interessato Arezzo, nel primo pomeriggio la Valtiberina, nella zona di Sansepolcro. Ci sarebbero stati alcuni allagamenti e disagi in una palestra dove in questi giorni si sta disputando un torneo di basket. Per la giornata di domenica 4 giugno, una nuova allerta gialla su tutta la Toscana dalla Sala di Protezione Civile Regionale. I cambiamenti climatici ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. A questo, facendo un focus sulla Valdichiana, è stato dedicato un convegno organizzato dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno, dove si è parlato da una parte della difesa dai cambiamenti climatici, dall'altra della siccità, un pericolo per l'agricoltura in Toscana. Sì, una settimana della bonifica che di solito gli anni passati era una settimana di festa per tutti i consorzi d'Italia. Quest'anno è una settimana tragica per i fatti che hanno colpito le miglioromagne e che abbiamo vissuto con grandissima apprezzione anche noi nel Consorzio di Bonifica II Alto Valdarno. Perché questa grandissima quantità di pioggia che è arrivata ha solo marginalmente interessato la parte alta del Casentino e alcuni affluenti minori dell'Arno. Però anche noi con grandissima attenzione e apprezzione l'abbiamo vissuta e guardata. Sicuramente dobbiamo sempre di più lavorare convintamente sulla manutenzione ordinaria del reticolo idraulico e dobbiamo interrogarci su quali sono quelle opere necessarie per mettere maggiormente in sicurezza i nostri territori, i nostri paesi, le nostre case e anche capire se quelle infrastrutture che in passato sono state fatte sono adeguate e conviene mantenerle oppure se c'è necessità appunto di interventi nuovi e magari anche lo spostamento o lo stombamento di tanti corsi d'acqua che vediamo in tantissimi centri urbani sono stati appunto chiusi. Effettivamente va messo in conto questo cambiamento climatico, bisogna attrezzarci per questo evidentemente va ripensata anche l'attuale assetto idraulico, forse vanno consolidate alcune opere va cercato anche di mantenere delle aree libere, ecco dove poter in qualche forma cercare di immagazzinare l'acqua quando effettivamente è troppa, però bisogna anche dire che gli insiedamenti sono necessari perché la nostra economia è un'economia molto sofisticata, non c'è più una valle agricola con i mezzi che i buoi chiaravano i campi, oggi anche l'agricoltura è un'agricoltura molto attrezzata molto qualificata dove ci sono degli investimenti elevatissimi e quindi anche l'allagamento di una zona agricola comporta danni ingentissimi. Quindi è chiaro che stiamo di fronte a un cambiamento climatico e bisogna ripensare un pochettino le nostre priorità, le nostre attività, renderle anche meno vulnerabili probabilmente a queste inevitabili alluvioni.